Il tutorial della settimana Detto fatto con Caterina Balivo, tutti i tutorial della settimana Caterina Balivo ha detto fatto, i tutorial dal 9 al 13 ottobre Da lunedì 9 ottobre andrà in onda la seconda settimana che rivede la conduttrice Caterina Balivo, tornata in televisione dopo la nascita della sua piccola Core che per le prime tre settimane è stata sostituita dall'attrice napoletana Serena Rossi, al timone di Detto Fatto Per l'ambito culinario Caterina accoglierà il pasticcia eremica e il paquie che presenterà un altro dolce europeo, mentre Ilario Vinci Guerra proporrà la sua versione della triglia alla Livornese La vlogger Giulia Vaiana preparerà delle donut americane a forma di animale, il macellaio Luca Terni ci parlerà invece del pollo e Roberto Conti preparerà un filetto di zucca e porcini Infine Monica Micheli porterà la sua cucina afrodisiaca e Stefano Ciotti ci mostrerà come risolvere gli errori commessi in cucina Per l'ambito del bonton, invece, Elda Lanza, che lo scorso 5 ottobre ha compiuto 93 anni, illustrerà le buone maniere a tavola e Olivia Ghezzi aiuterà un ospite a essere più elegante Per quanto riguarda l'ambito del beauty, l'estetista Cristina Fogazzi parlerà dei segreti per una corretta pulizia del viso Per l'ambito dell'arredamento, le sorelle gemelle Giulia ed Elena Sella mostreranno lo stile black e vita e l'architetto Andrea Spera si ispirerà allo stile degli ambienti di New York Detto fatto anticipazioni settimanali, cosa vedremo con Caterina Balivo? Durante le puntate della prossima settimana di Detto fatto condotto da Caterina Balivo, per l'ambito dell'air stylist Salvo Filetti interverrà sulla conciatura di un ospite, mentre Caterina presenterà altri partecipanti alla Detto fatto Air Academy Giovanni Cibin, invece, si occuperà dei capelli del giornalista Aldo Dalla Vecchia e tornerà l'air designer Renato Gervasi Per la sezione Moda e Look, invece, Silvia Nobili aiuterà una ragazza in partenza per l'Erasmus e la modella Paola Turani proporrà tre abiti adatti a diverse occasioni Elisa Dospina aiuterà un ospite a trovare il look più adatto per lei, mentre Priscilla e Pinuccia Botton arriveranno in aiuto a due ragazze che devono partecipare a un matrimonio civile Non mancherà inoltre la sezione dedicata all'arte, con Daniele Radini tedeschi che parlerà del pittore e scultore Lucio Fontana. Gilberto Savini parlerà del rapporto tra gli italiani e i social network Il dottor Giovanni Macri darà consigli a un ragazzo che porta l'apparecchio ai denti Infine, Caterina darà spazio a Vanni Oddera, campione mondiale di motocross freestile, che si dedica alla mototerapia e che porterà con sé l'Area Naif, esponente del Belshire Motocross, il motocross effettuato sulla sedia a rotelle Il dottor Giovanni Macri